Ciao a tutti, oggi voglio presentarvi i miei nuovi cavalli Slade che finalmente sono riuscita a trovarli, li ho trovati alla città del sole nel mio paese, diciamo che il prezzo è buono perché non sono molto cari, vengono 6,50 euro all'uno e poi vado a far vedere la sorpresa. Intanto partiamo da lui, lui è lo stallone Krakener che è originario della Germania, è diffuso un po' in tutta Europa e America, viene utilizzato per sella e attacchi leggeri, è un buon saltatore ed è molto docile ed energico e lui ho deciso di chiamarlo King, è fantastico davvero, ha un mantello che è stupefacente, ha anche il colore, le macchie, tutto, poi la posa è fantastica. Ora passiamo alla giumenta araba, lei l'ho chiamata Dolly, questa cavalla è originaria della penisola araba e si trova un po' in tutto il mondo come cavalla, viene usata a sella ed è molto veloce, resistente e intelligente ed è una cavalla molto nervosa e docile, ma docile in un certo senso sì, è fantastica davvero, hanno cambiato il tipo di plastica per questa come potrete ben sentire dal rumore rispetto a questa, però è pur sempre che è stupenda, con questa criniera intrecciata che è così favolosa. Passiamo allo strellone Fjord, lui, io gli ho dato un altro nome diverso però dal loro, l'ho chiamato Flash, che l'ho preso da un film di cavalli che mi ispirava, è stupendo come cavallo, veramente, questo cavallo era molto utilizzato dai vichinghi, nelle guerre soprattutto, perché essendo un cavallo piccolo, mattozzo, era molto veloce. E ora passiamo alla sorpresa. Lei l'ho chiamata Manni, è un cucciolo d'asino, è stupenda, fantastica proprio, cioè davvero, non potevo non prenderla, mi sono innamorata subito al primo momento che l'ho vista. E niente, è stupenda, con questa riga di muro sulla schiena, è fantastica. Bene, qua ve li faccio rivedere tutti. Grazie di avermi seguito, ora guardatevi un po' di foto. Grazie di avermi seguito, ora guardatevi un po' di foto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.